Allora, Metro Correo, sapete che dell'adrenalina arriva direttamente al cervello, la serotonina fa svegliare tutti i sensi e quindi vi è venuta l'illuminazione. Oggi vedremo cosa fare in caso qualcuno ti additi, qualcuno ti attacchi in pubblico. Se è pronto, prenderò qualche insegnamento da uno dei miei guru preferiti, il saggio, maestro Buddha. Innanzitutto però ci terrei a precisare che se ti succedono queste cose, cioè che qualcuno ti attacchi, complimentati con te stesso perché sarai abbondantemente sulla strada della trasformazione. E dopo averti deriso ti attaccheranno perché forse sei la persona che avrebbero voluto essere e che non sono mai stati capaci di diventare. Comprendi? Ciò provoca un notevole stress in alcune persone portandole a forti disequilibri psicologici. Ok? Parti però sempre da un presupposto, cioè che, fai attenzione ora che è bellissimo, che chi alza la voce, chi insulta, chi ferisce con le parole, appunto è quasi sempre uno squilibrato, un sofferente. Infatti, se riverso il mio odio su di te, probabilmente sono frustrato dalla mia, come dire, dalla mia personale situazione. Ho invidia, sto male e forse non me ne accorgo. E cerco solo delle valvole di sfogo, non delle soluzioni ai miei problemi. Ok? Tali soggetti preferiscono attaccare, ma in realtà sono dei deboli. Perché? Perché non riescono a trovare modi efficaci per uscire da questo torbido malessere. Se in futuro sarai consapevole di aver di fronte persone del genere, non ti incazzare, è inutile, ma mantieni il controllo, come dovrai fare sempre d'altronde. Non dargli assolutamente attenzione e cerca di provare compassione per essi, non dar peso alle loro parole. Sii superiore, perché? Perché la loro cattiveria nasce dal dolore. Non sono consapevoli come noi, ok? Tu che subisci l'attacco sei la vera persona forte, quella che è in una posizione di preminenza. Perché? Perché tu potrai scegliere la risposta e l'atteggiamento da tenere che sarà solo esso e sempre uno. L'indifferenza. Solo così, intrinsecamente, non accettando il suo odio, lo stai perdonando. Per cui non dargli alcuna importanza e vai avanti per la tua strada. Gli illuminati come noi comprenderanno, tutti gli altri penseranno che sei un presuntuoso o addirittura che tu abbia torto. Se la platea segue i tuoi insegnamenti, non fartene una preoccupazione e tira dritto. Mi spiace per questi haters, ma in molti casi il nostro comportamento servirà a fargli ragionare. E addirittura molti comprenderanno che per avere i nostri stessi risultati, paradossalmente, non dovrebbero fare altro che seguirci. Ecco ora un esempio pratico del grande maestro Buddha. Questo è un esempio tratto da uno dei suoi libri. Pensa che Buddha stava insegnando ad un gruppo di discepoli quando un uomo gli si avvicinò e lo insultò con l'intenzione di aggredirlo. Il maestro come reagì? Reagì con assoluta tranquillità, ovviamente plasmata dalla meditazione, rimanendo fermo e in silenzio. Quando l'uomo se ne andò, uno dei discepoli, indignato da questo comportamento, chiese al Buddha un motivo per cui avesse permesso a quello straniero di maltrattarlo in quel malo modo. Il maestro gli rispose serenamente Se io ti regalo un cavallo e non lo accetto, di chi è il cavallo? L'alunno, dopo aver tentennato per un istante, disse Se io non lo accettassi, il cavallo continuerebbe ad essere vostro, maestro. Buddha annui e gli spiegò che, nonostante alcune persone decidano di perdere il loro tempo insultando, Noi possiamo scegliere di accettare tali parole, o meno, proprio come faremmo, con un regalo qualsiasi. Poi concluse dicendo, non accettare le parole di odio, ma rifiutale. Solo in questo modo, colui che ti odia rimarrà con l'insulto tra le mani. Non puoi dare la colpa a chi ti offende o a chi ti fa male, perché è tua la decisione di accettare le sue parole invece di lasciarle sulle sue stesse labbra da cui sono uscite. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al nostro canale, perché solo così, cliccando sulla campanellina, potrai avere i nuovi contenuti. Non mi rimane che dirti, work hard, e da oggi work hard e smart, quindi non lavorare solo duro, ma anche in maniera intelligente. Un grande abbraccio da Tony e alla prossima!